Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Thomas e oggi siamo qui in un nuovissimo video. Oggi vi porto Zodiac Eldritch con qualche proxy, sì scusatemi, però apprezzate la lista, dai che è meglio. Intanto spostiamo un po', ok. Apprezzate la lista, dai che è meglio. C'ho qualche proxy perché, minchia, perché volevo aspettare la banlist, ecco, quindi semplicemente per quello. Iniziamo subito dai mostri. Gioco. Un Purosangue, un, diciamo, Fourblade, un Codafrusta, boh. No, boh, niente, boh, gioco anche tre. Ramram. Perché è così? Vabbè, allora, questa è forte perché non faccio subire Perma. Perché dice quando il mio avversario attiva una carta trappola ho un effetto che targetta questa carta, posso staccare materiale da questa carta non attivazione. Quindi è molto forte questa. Questa si attacca col materiale e banno a un mostro di avversario e questo fa danno perforante. Diciamo che quello che devo fare io è portare Drident e poi Zeus. E quindi, boh, si gioca così. Non devo fare combo. Poi gioco, ovviamente, due Lord. Proxati, ma questi, se non mi bannono nulla di grave, li prenderò. Poi, sicuro per ora che non guadagno soldi da nulla, oltre che da Market, non prendo carte da mostrare in video, ma va bene. Poi gioco tre Nibiru, ovviamente. In Zodiac sono base. E tre Ash. Le altre Entrap le vediamo dopo. Comunque, tre Nibiru e tre Ash. Poi, spell, gioco tre Tenki. Barrage, ovviamente, questa è fortissima. Tenki invece ha da Zodiac. Tre Karsed Eldrand, anche questa. Le avevo. Poi sono salite a 12 euro l'una. E allora ho detto, ma sai che c'è? Vendiamole. Le ho prese tipo un euro al playset, crocche, quindi fate voi. Il problema è che è una carta che anche rischia la ban, secondo me, perché adda, poi si viene mandata a grave, manda, cioè fa tutto, in poche parole. Spell forti, ho deciso di essere creativo e giocare tre Cyclone, tre Forbidden Chalice, senza spaccare la postazione, e tre Book of Moon. Mi piace molto giocare tutte queste cose, perché mi sembra SS, anche se mi fa cagare come mazzo. Però comunque mi piace molto avere la varietà di... non usare per forza le solite carte, come Strike o altre cartacce. Diciamo che giocare la prison, la trappola prison, sarebbe molto forte, però... Boh, mi piace l'idea di giocare 9 rapide. Questo che copre, quello che nega, e questo che banna Spellotrap. Boh, questo è forte, ad esempio, contro tutto, praticamente tutto ciò che veramente causa problemi, non contro i Link, però Link... Si giocano, sì, si giocano ovviamente, ma si ha anche tante Xyz e fusione. Ad esempio, mi becco la fusione che spacca tutto, Prankids, io vado a coprgliela. Mi becco Virtual World, io vado a coprirgli la sua roba, diciamo. Poi, vai, Calice Prohibito, in realtà, qua ci starebbero le goccioline proibite, le Forbidden Droplet, ma... Ok. Poi, non è finito. Non è finito perché, ahimè, c'è ancora Reparto Trappola. Mi mancava giocare a Reparto Trappola e quindi, ovviamente, sono andato a giocare. 3 di Scarlet Sanguin, 3 Conquistador e 2 Aquero. Ovviamente, boh, cioè, tutti lo giocano così ed è giusto che venga usato in questo modo. Le ultime 3 Entrap sono le Perma. Come potete aver... cioè, come avete visto, gioco 9 Entrap e 6... e 9 carte che possono andare sia primo o secondo, no? Le Sper rapide. Quindi è molto... cioè, rompe, rompe le scatole all'avversario. Vi mostro ancora l'extra. La side, ragazzi, sinceramente, la side è... La side è Droll per Dragon Link, Dimensional Shifter per Virtual World, Dimensional Barrier per Spam Xyz, e... per Zodiac, Mirror, per Drytron e tutte quelle porcate là. Vabbè, quella la scegliete voi. Triple Tetical Talents, TTT, quello che volete voi. Comunque, extra. Passiamo all'extra. Ragno Link, perché lo uso per fare... cioè, lo uso con le spell degli Eldritch, le spell Eldritch. E poi... po', mi tirano un Nibiru che... il mio mazzo non si può beccare Nibiru, ma vabbè. Quindi non mi entrerà mai, a meno che non farò il pazzo. Bloccatore Barricataborg, fortissimo, perché posso... magari vado in combo e faccio Eldland, che ne so, magari... Mi porto il Eldritch grosso. Il turno dopo riesco a portare due mostri, faccio lui, mi riaddo la spell continua, la Karsed. E può essere... cioè, questa carta può essere forte perché, oltre a scartare queste, che mi fanno andare avanti, io posso... oltre a... comunque scartare queste. No, io magari scarto loro, però è forte perché mi fai addare questa, mi puoi addare questa, e mi puoi addare questa. Quindi, questo mi fai addare queste tre, e... ragazzi... è forte. Posso dire che è forte. Posso dire che è molto forte. Soprattutto quando non hai tante risorse, che siete in grind game, e... e boh. Poi gioco a Ussa, che non ho, ma che comprerò, ovviamente. Questa, anche se mi banno il mazzo. Forte, boh, giochiamo in terra, quindi come non giocare sta carta? E... è utile. Fidatevi che è molto utile anche per Mirror. E poi, Fenice Cerbero. Sono sempre andato contro all'usare Fenice Cerbero, ma adesso li uso tantissimo. Passiamo a... Ixiz, ovviamente. Drident, accompagnato da un arcorso, ma forse meglio due. Martaokong, utile come il pane bagnato nell'acqua. No, non è vero, ragazzi. Chakanin, doppio. Tiger Mortar, anche lui. Due perro, come dicono LPP Collecting. Boh, ragazzi, comunque giocate Eldritch. Non avete bisogno di giocare tutti in tre perro, eh. Stavolta la qualità è leggermente migliore, eh. Ho trovato un'altra postazione, quindi si vede leggermente meglio. E poi, ovviamente, comunque, continuando gioco. Pleiades e doppio Zeus. Toglierò poi Pleiades per mettere arcorso. Quindi, ragazzi, che dire? Grazie per aver visto questa profile. Ripeto, la side è molto generica, però dovete pensare, eh, prima di tutto, a voi. Non dovete guardare la mia di side, perché deve essere vostra. La side è vostra. Però guardate bene il meta, quindi Dimensional Shifter, queste carte qua, Dimensional Barrier, e così via. Quindi, anche la lista, non è che dovete per forza copiare questa, anche perché non lo farà nessuno. Però, perlomeno, cercare di prendere spunto, non perché non voglio che mi copiate la lista, ma perché le liste sono, diciamo, personali, ecco. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.